scusatemi questa qui è la vera partita mi sono indicato di salvare mi scuso tanto per lo specifico disturbo dobbiamo iniziare da capo mi dispiace per quelli che hanno visto l'altro video di salvare e di mettere prima parte beh che ci possiamo fare siamo esseri umani scusate per questo piccolo lag buono il computer un xp tanto che alcuni giochi lo so nel primo video commesso non faceva tanta cura perché c'erano solamente i cani aspettatevi che andiamo avanti poi vedete vi cagherete sotto vedete già anche la parte vedete anche già il video iniziale che fa abbastanza paura la vostra prima arma è una spada d'oro ora andremo ad aprire una porta sul quale sul quale troveremo un qualcosa tipo un pugnale trovi qua un pugnale di legno apriremo anche la seconda porta la seconda porta l'angolo niente siamo stati fortunati ragazzi ragazzi scusate se mi metto un po' a ridere però è così che quando ho paura mi metto a ridere e anche a spaventarmi un po' ora ora andremo a aprire che do una porta no no boh mi sono sbagliato si quella la quella la dove troveremo il papa una specie di papa che ci darà il crocifisso si finisco io ritroviamo la vita scusate ma c'è un piccolo problema di memoria perchè mi ricordo che in una di queste stanze c'era un paletto per poi ammazzare un vampiro che troveremo poi in una delle stanze oh abbiamo aperto anche una porta che io quando ho giocato da solo senza fare il video non sono riuscito ad aprire minchia caga cazzo un goblin aiuto un goblin è morto un altro paletto di legno per ammazzare i vampiri oh la vita abbiamo trovato un'altra vita un altro pochetto della vita siamo a cento minchia che musica terrificante se non fosse che starei facendo il video mi sarei cacato sotto tra me e me direi non consiglierei di andare avanti però devo fare un video abbiamo trovato i proiettili per la revolver c'è anche una bara ah no scusate ho sbagliato so che fosse una bara da come l'avevo vista prima solamente abbiamo trovato solamente così per la vita anche un cane abbiamo trovato in cui abbiamo dato il colpo di grazia fa paura questo gioco ragazzi vi consiglio di prenderlo e di giocarci di notte madonna fa panico sto gioco oh merda ora troveremo la parte più terrificante del gioco questo qui con la revolver ci stanno per ammazzare e abbiamo ammazzati tutti abbiamo trovato anche la revolver un altro pochetto della vita e ora ragazzi sto un attimo zitto per farvi sentire l'urla di terrore che dopo verrà quando troveremo il vampiro quando troverò il vampiro scusate 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 le questo qui ha anche detto colpo di corcifisso per ammazzare i vampiri che andremo a trovare nella porta qua ora sto zitto per farvi sentire questo qua questo qua ma si ma si ah madonna un goblin abbiamo inficcato un paletto nel cuore quindi dovrebbe essere morto si è morto minchia che paura un altro pochetto della vita ragazzi ora vi saluto salvo la partita per poi vederci la prossima volta ciao da vostro